Una gran partita, cosa pensa del gioco della squadra? No, al di là del gioco la reazione della squadra che mi interessava più che altro del risultato. I punti sono importantissimi, però come ho detto prima mi interessava la reazione, i ragazzi hanno risposto alla grande, complimenti a loro, hanno fatto una buona partita, non hanno dato respiro alla squadra avversaria e questo mi fa ben sperare per il futuro. Io, come ho sempre detto, questi ragazzi bisogna solo elogiarli perché veramente è una squadra che comunque dà tutto in campo, dà l'anima e queste sono quelle che devono fare da qui fino alla fine. L'Agropoli gioca un ottimo calcio, però è d'accordo con me che le prossime due gare saranno decisive per capire dove può arrivare questa squadra? Innanzitutto questo è un campionato difficilissimo, non c'è una squadra, ci sono tante squadre che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento, ci sono campi stretti dove bisogna andare lì e fare un altro tipo di gioco. È normale che noi dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni negative che possono arrivare durante l'anno, questo tocca a me tenere il gruppo sempre sulla corda perché comunque questa è una squadra, come ho sempre detto che si abbassa l'intensità, si abbassa la concentrazione e diventa una squadra normale e questo non deve succedere. Noi dobbiamo andare un passo alla volta, adesso abbiamo fatto oggi, i ragazzi adesso sono liberi, si possono divertire, liberi da una settimana diciamo abbastanza piena a livello di tensione più che altro, perché anche la proprietà non si vede ma è sempre vicino a questa squadra, vicino a me, vicino al direttore. Comunque i ragazzi hanno risposto alla grande e sono contento sotto questo punto di vista. Grazie mister. Il DS Grillo, cosa pensa della partita disputata oggi? Sicuramente bisogna fare un applauso a questi ragazzi che hanno approcciato nella maniera giusta, con la fame e la cattiveria che in questo campionato fa la differenza, poi abbinata a un pizzico di qualità diciamo che siamo sulla strada giusta. Ecco, nonostante tutte queste goleate il pubblico continua a scarseggiare, vuole fare un appello al pubblico per riempire lo stadio, per questa squadra che comunque si sta impegnando moltissimo e lo sta dimostrando? Beh, essendomi informato un po' sulla storia di Agropoli, so che la squadra è seguitissima anche se non c'è presenza di pubblico qui al Guariglia. Sta a noi, soprattutto a noi, riconquistarla, perché magari è un po' scottata, nel calcio ci sta, però penso che questa squadra, un minimo di credibilità, comincia ad averla. Quindi chiediamo a nome di tutti i ragazzi, dello spogliatoio, perché è uno spogliatoio molto giovane, la vicinanza già dal prossimo incontro in casa, che magari è uno scontro di alta classifica in questo momento. Poi sicuramente starà a noi tenerceli stretti e farci accompagnare in questo percorso che non è facile. Sembra facile, ma non lo è assolutamente, perché è una squadra giovanissima la nostra che se molla un pochettino andremo in difficoltà con chiunque. E d'accordo sul fatto che il mister sta valorizzando soprattutto i giovani? Beh, la scelta di De Cesare non è a caso, nel senso che è un mister dove ti tira fuori. Mi ricorda, da ex giocatore, un sannino, un sannino vincente, un carismatico, una persona che pensa solo al campo, è una persona che ti tira fuori tutto da dentro e in queste categorie può solo che far crescere i ragazzi e rimanere su questa strada, perché come ho detto prima è una squadra giovane. Il mister tira fuori già dagli allenamenti, perché è un lavoro che parte da dietro. Non ci scordiamo che noi siamo partiti comunque in ritardo, siamo partiti in ritardissimo e abbiamo costruito una squadra in poco tempo. Il mister ha creato un gruppo fantastico e di questo dobbiamo esserne solo orgogliosi. Grazie. Con noi anche il DG De Biasi, cosa pensate della partita? Una partita giocata bene, ci aspettavamo la vittoria, volevamo mantenere il primo posto e raggiungere il Cervinara, ci siamo riusciti, un applauso ai ragazzi. Si può dire che le prossime due gare potranno far capire dove l'Agrovole può arrivare? Sì, tutte le partite sono importanti, la trasferta di Nola e poi la partita in casa con l'Audax saranno sicuramente uno scoglio duro da superare, ma va bene, prima o poi bisogna incontrarle tutte. Con Grillo abbiamo fatto un appello al pubblico, vuole farlo anche De Biasi? L'invito al pubblico è di stare vicino, non bisogna pensare di essere il semplice tifoso dell'Agropoli. Noi abbiamo bisogno della vicinanza della gente, del supporto della gente, non solo a livello economico come può sembrare, ma proprio come sostegno di persona. Quindi l'appello è quello di venire tutti quanti allo stadio, far sentire un affetto e la vicinanza e i giocatori che ne hanno bisogno, siamo una squadra giovane e abbiamo fortemente bisogno della passione del pubblico. Grazie.